Ricevo spesso domande sugli esercizi migliori per tonificare o dimagrire. Capisco che molte persone sono alla ricerca di soluzioni facili e veloci, ma non funzionano così perché non ci sono singoli esercizi o una serie di esercizi e basta che fanno miracoli. Ad esempio, Lip Trust di per sé non è un esercizio che ti fa tonificare i glutei. Sì, ovviamente è un esercizio in cui si va a sollecitare molto questa zona, ma la sua efficacia dipende dal peso che utilizziamo, dal se facciamo l'esecuzione corretta, da che esercizi ci sono prima e dopo, quindi come è impostata la nostra scheda e come è impostata la nostra programmazione. È la stessa cosa che pensare che ammazzandosi di addominali la pancetta vada via, altro falsissimo mito. Quello che ti farà raggiungere davvero i tuoi obiettivi è seguire un programma di allenamento studiato e alimentarti in modo corretto. Non cercare scorciatoie che non servono a niente.